... Benvenuti nell'elite della shoreline. Volete mostrare ai vostri avversari cosa significa cercare un tesoro? Voglio rapporti continui, Nadine. Voi altri, muovetevi. Possiamo cominciare? Ci sono diversi tesori, ma c'è poco tempo per recuperarli. Scattare! Abbiamo trovato un tesoro, gente! Trovate quello strutto! Fagli a pezzi, vai! Trovate quello strutturato! Ah, maledizione! Probloccarmi la fuga! Ok! Sono fuggiti da quella parte! Presto! Divesso, mio amico! Prova a bloccargli la fuga! Deve uscirai? Niente di personale. Ben fatto, ma non perdiamo tempo a confrontare i bottini, abbiamo altro lavoro. Mi piace sporcarmi le mani. Passiamo al prossimo obiettivo. Capiamo programmi. Avete compagnia. Dimostratevi che siete veri mercenari. Ho capito, Nadine. Ora, vola via. Questo è il mio territorio. Un'altra parte, un'altra parte. era troppo per te la situazione è sotto controllo attendo nuovi ordini nadine queste le prendo io non sono mai abbastanza queste vanno a me non non Trovate quello che uscite da Tecchino! Vengali! Vola! E' arrivato! Viva! E' arrivato! Sto arrivando! Sistemato! Sto arrivando! Sto arrivando! Vieni qua e si rossa i fuori! Sto arrivando! Sto arrivando! Ottimo! Li avete sistemati! Ne vogliamo ancora, Nadine. Queste sono mie. Non sono mai abbastanza. Non sono mai abbastanza. Non sono mai abbastanza. Non vale di nulla. Quello era l'ultimo. Ben fatto. Pensavo sarebbe stato più impegnativo. Ah, finalmente. Queste le prendo io. Chi trova tiene, giusto? Queste sono... Non abbassate la guardia, c'è altro da fare. No, il sistema è in stallo. Dovete tenere duro mentre riavvio. Granata! Non dispiace tanto! La torta è in atta. Fuori dai gioco! Non avevi nessuna possibilità. Granata! Non sono mai abbastanza. Non sono mai abbastanza. Sono finiti! Sono fuori dai giochi! Bottino discreto, perditi assettati. Nel complesso direi che è stato un successo. Un buon risultato. Grazie mille per l'aiuto, Nadine. Grazie mille per l'aiuto, Nadine.